Detenzione di sostanza stupefacente e fini di cessione a terzi dovrà rispondere di questa accusa MB, 31enne di Sulmona, già noto alle forze dell'ordine, che questa mattina è stato rinviato a giudizio al termine dell'udienza preliminare che si svolta davanti al GUP Daniele Sodani. I fatti risalgono a 27 aprile 2018, quando a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri della compagnia di Sulmona a casa del 31enne, località Cantone, furono rinvenuti 3,8 grammi di marijuana con principio attivo 0,75 e un panetto presumibilmente di hashish da 92 grammi con un principio attivo 1,4. Il legale dell'imputato, Silvia Iafolla, ha sostenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta dai militari era ormai datata. MB fu denunciato nell'ambito della maxi-operazione condotta da carabinieri Polizia, che portò inizialmente al ritrovamento di 25 pistole rubate a un noto collezionista sul Monese. Le perquisizioni domiciliari permisero alle forze dell'ordine di rinvenire, oltre alle armi, anche la droga. A casa di GB, 45 anni dintro d'acqua, i carabinieri trovarono alcuni vasi di canapa indiana, ma anche una piantagione di marijuana. Per lui scattò l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente. Nello stesso giorno i militari derunciarono GG, domiciliano Petorano Sugizio ed MB. Per quest'ultimo il GUP Daniele Sodani, ha notificato questa mattina il decreto di rinvia giudizio, fissando la prima udienza del processo per il prossimo 14 gennaio. Per gli altri la magistratura sta seguendo un altro procedimento.